ciao ragazzi e bentornati su Gronded oggi mi trovo in modalità creativa proprio per farvi vedere la tipologia di oggetti che si possono andare a creare sono qua dove ho fatto la mia casa e ora vi faccio vedere praticamente come si può realmente costruire in maniera più veloce senza andare a raccogliere il materiale allora come prima cosa bisogna mettere le basi che sono queste qua quindi vedete che si vanno anche a modificare nell'altezza che potete fare l'altezza che volete addirittura si possono anche mettere che non toccano veramente molto terreno questo perché il terreno non è pianeggiante quindi potete far combaciare anche tranquillamente se non è proprio pianeggiante allora queste sono le basi poi naturalmente dovete fare poi una scala per salire sopra e mettere il pavimento allora qua ti fa vedere anche che ci sono poi diversi tipi di pavimentazioni praticamente più che pavimentazioni ci sono le diciamo i muri e le finestre in una specie di sembrano praticamente dei legni adesso io andrò a far vedere questo qua per esempio in legno vediamo se si può posizionare magari qua dove c'è il pavimento in si in teoria lo fa vedere che si può fare allora lo andiamo a girare col tasto q ecco vedete che allora rimettiamo magari una finestra ovviamente con questa modalità vi faccio semplicemente vedere le possibilità che ci sono di costruzioni in questo gioco allora questo dovrebbe stare un po' più dritto secondo sì ecco così ok vedete che questa qui sarebbe diciamo io lo chiamo alla legna perché siamo più che altro legna però è quel fiore viola che c'è quello con anche ecco lì lì quello la laggiù che c'è e qua mentre vado a mettere la mia pavimentazione fa molto caldo quindi anche si riesce a fatica a parlare oggi in questa maniera ce l'andate a posizionarla sopra ovviamente poi avete visto nella realtà come funziona è molto faticoso bisogna stare a tagliare tutte queste assi eccetera allora ora vediamo per esempio la finestra dovrebbe essere questa qui se riesco a piazzarla ok e la andiamo a mettere così vedete molto più veloce ed è molto carina da vedersi poi qui vabbè andrà conclusa e si possono fare anche i tetti i tetti vediamo come sono fatti in questo gioco allora ho visto che praticamente dunque qui abbiamo il triangle floor però ha fatto soltanto di di erba verde il roof fatto che per più indicolare e lui roof corner che credo sia un po a cono mi converrà praticamente andare a chiudere tutta la struttura poi qui abbiamo anche addirittura la porta che la possiamo fare davanti alle scale dove stanno le scale acqua basta tirarla su in questa maniera ed ecco qui la nostra porta poi si può aprire e chiudere ma questa qui dovrebbe essere molto più resistente questo è soltanto il tier 2 della casa diciamo rispetto appunto all'erba quindi se siamo attaccati in teoria non so quanto ma già essendo è rialzato visto che non attaccano la casa e va molto di più a resistere dunque allora adesso abbiamo concluso questa nostra casa diciamo questa prima parte e viene in questa maniera qua ora appunto volevo farvi vedere anche i tetti ma però mi sembra che ci sono soltanto di materiale diciamo d'erba quindi se volevamo farlo quello perpendicolare dobbiamo no non è questo scusa ma non avevo cliccato ah non ho sbagliato a cliccare dove è andato a finire il roof eccolo qua allora questo qua anche questo va messo perpendicolare bisogna farlo combaciare perfettamente dunque adesso poi vediamo se sì non è fa ecco infatti ma cliccato mi ha lagato me l'ha messi male o per andare a togliere l'oggetto dobbiamo semplicemente schiacciare il tasto x e li toglie nella modalità normale fortunatamente insomma butta per terra i materiali si possono anche recuperare quindi non vanno distrutti dunque qua c'è da fare il triangolo quindi andiamo a fare e andarlo inserire qua bisognerà girarlo finché ecco così dovrebbe essere posto qui basta un attimino che ti lagga un secondo e ti ne fa uno in più allora qui abbiamo chiuso e bisognerà semplicemente chiudere il nostro tetto vediamo la nostra casa da lontano se riusciamo un attimo inquadrarla vabbè adesso io magari lì ci ho messo delle finestre forse era meglio metterci i muri normali ma giusto per vedere come funziona dunque allora per mettere qua credo che mi sembra di aver capito che non c'è vediamo un attimino il tetto quello piatto quindi in teoria si dovrebbe andare a mettere questo qua che andiamo a chiudere in questa maniera ecco ne ho messi forse due a volte clicchi dai l'ultimo ok nella versione normale ho trovato difficoltà andare lì sopra sul tetto perché non mi faceva mettere quindi bisogna prendere una scala andare su non lo so e questa qui è la nostra casa finita ci abbiamo messo veramente pochissimo in questa modalità quando poi nella modalità normale purtroppo ci si mette veramente tantissimo tempo perché bisogna raccogliere tutti i materiali poi questo qui il legno chiamiamolo legno è abbastanza difficile da andare a trovare comunque ragazzi questo è un esempio di come costruire in questo gioco dunque e invece per quanto riguarda gli tool abbiamo già scoperto parecchi poi come sapete molti si possono anche upgradare e in più qui abbiamo il repair tool che questo qua credo che serve per appunto riparare si dice per riparare le strutture danneggiate e ancora io nella modalità normale non l'ho trovato non so come si farà a trovarlo probabilmente si imparerà la ricetta da un nuovo robottino poi abbiamo le le frecce avvelenate questo è altro tipo di frecce e quelle normali e queste qui le gas arrov praticamente rimaneranno del gas poi magari le proviamo visto che le posso craftare senza alcun problema allora non andiamo ovviamente giù dalla tarantola per carità e qualche altro c'è da vedere c'è anche da vedere quello che possiamo fare qua con le armi vedete che ci sono molti tipi di armi tra cui anche le bombe anche gli scudi questi praticamente li abbiamo quasi trovati tutti stavo guardando e naturalmente dovremmo trovare l'inset bove infatti come sospettavo c'è anche il l'arco molto più forte poi andiamo a vedere per esempio qua invece no più o meno questi due li abbiamo già trovati qua abbiamo delle decorazioni che servono benissimo che cosa possono servire poi magari le vado a craftare qui la base building l'abbiamo già visti qua abbiamo in più questo qua il jerky rack che non so che cosa sia dopo dice che è un posto dove ristorare la vita e un po cos'è il dirti secchezza non so poi vediamo qua altre cose queste più o meno le ho già bloccate tutte e trappole abbiamo altre trappole le trovate due ecco per esempio vediamo come possono funzionare se trappole proviamo a farne una io ce l'ho in la modalità normale adesso chiaramente qua non ci sta nemmeno una formica ecco allora le trappole dovrebbero emanare questa qui con i fiori che abbiamo trovato poi anche i petali vediamo questi odori che dovrebbero attirare in teoria gli insetti ovviamente adesso non attireranno perché sempre così però primo poi arriverà una formica qualcosa se no abbiamo altri tipi di trappole vediamo questa qui la bomba così mi rendo anche conto con quale sarebbe anche poi eventualmente meglio andare a fare però se non abbiamo questa qui è strana non so come funzioni mettiamo le due probabilmente a se tira il filo forse scoppia qualcosa ma non so che se non c'è una cavia queste qua non si riescono a vedere dopo andremo a cercare una cavia dunque e invece per quanto riguarda gli tool abbiamo già scoperto parecchi poi come sapete molti si possono anche upgradare e in più qui abbiamo il repair tool che questo qua credo che serve per appunto riparare si dice per riparare le strutture danneggiate e ancora io in nella modalità normale non l'ho trovato non so come si farà a trovarlo probabilmente si imparerà la ricetta da un nuovo robottino poi abbiamo le le frecce avvelenate questo è altro tipo di frecce e quelle normali e queste qui le gas praticamente rimaneranno del gas poi magari le proviamo visto che le posso craftare senza alcun problema allora non andiamo ovviamente giù dalla tarantola per carità e poi chi altro c'è da vedere c'è anche da vedere quello che possiamo fare qua con le armi vedete che ci sono molti tipi di armi tra cui anche le bombe anche gli scudi questi praticamente li abbiamo quasi trovati tutti stavo guardando e naturalmente dovremmo trovare l'inset bove infatti come sospettavo c'è anche il l'arco molto più forte poi andiamo a vedere per esempio qua invece no più o meno questi due li abbiamo già trovati qua abbiamo delle decorazioni che servono non so benissimo che cosa possono servire poi magari le vado a craftare qui la base building l'abbiamo già visti qua abbiamo in più questo qua il jerky rack che non so che cosa sia come dice che è un posto dove ristorare la vita e un po cos'è al dirti secchezza non so poi vediamo qua altre cose queste più o meno le ho già bloccate tutte e le trappole abbiamo altre trappole le trovate due ecco per esempio vediamo come possono funzionare queste trappole proviamo a farne una io ce l'ho nella modalità normale adesso chiaramente qua non ci sta nemmeno una formica ecco allora le trappole dovrebbero emanare questa qui con i fiori che abbiamo trovato poi anche i petali vediamo questi odori che dovrebbero attirare in teoria gli insetti ovviamente adesso non attireranno perché sempre così però prima o poi arriverà una formica qualcosa se no abbiamo altri tipi di trappole vediamo questa qui la bomba così mi rendo anche conto quale sarebbe anche poi eventualmente meglio andare a fare però se non abbiamo questa qui è strana non so come funzioni mettiamo le due probabilmente a si tira il filo forse scoppia qualcosa ma non so che se non c'è una cavia queste qua non si riescono a vedere dopo andremo a cercare una cavia poi per andare a chiudere tutta la nostra base quindi a recintare c'è anche le palizzate che sono queste qui fatte sempre con quel materiale comunque è veramente lungo il discorso da farsi per quanto riguarda queste cose però abbiamo visto che se non andiamo a fare questo lavoro qui o se non andiamo a metterci magari chissà dove sopra quindi costruire in alto la nostra base possiamo essere attaccati dagli insetti che ci distruggono un po' tutti i banconi e le varie cose adesso qui poi ho tagliato un po' d'erba dovrò togliere anche c'è un po' di caos ok allora qua non ho avuto modo di trovare ovviamente nessun tipo di insetto perché quando li vai a cercare non ce ne sono vediamo se poi lo troverò quindi come potete vedere potete fare tante cose però comunque il lavoro è lungo se giocate da soli in single player cioè veramente soli e non in multiplayer insomma perché bisogna raccogliere eccetera poi per andare a chiudere tutta la nostra base quindi a recintare c'è anche le palizzate che sono queste qui fatte sempre con quel materiale comunque è veramente lungo il discorso da farsi per quanto riguarda queste cose però abbiamo visto che se non andiamo a fare questo lavoro qui o se non andiamo a metterci magari chissà dove sopra quindi costruire in alto la nostra base possiamo essere attaccati dagli insetti che ci distruggono un po' tutti i banconi e le varie cose adesso qui poi ho tagliato un po' d'erba dovrò togliere anche c'è un po' di caos ok allora qua non ho avuto modo di trovare ovviamente nessun tipo di insetto perché quando li vai a cercare non ce ne sono vediamo se poi lo troverò quindi come potete vedere potete fare tante cose però comunque il lavoro è lungo se giocate da soli in single player cioè veramente soli e non in multiplayer insomma perché bisogna raccogliere eccetera andando poi a costruire il custom marker praticamente cliccando poi sopra posso andare a mettere un simbolo per ricordarmi sulla mappa che cosa ho trovato in quel punto allora mettiamo che qua voglio indicare diciamo dove ho trovato dell'acqua mettiamo allora metterò la goccia credo che lo possa anche applicare il colore quindi la faccia azzurro e vediamo cosa succede allora qua mi segna ma anche sulla mappa no che cosa serve questo ah forse me lo farà vedere da lontano sì e quindi questo qui è il segnalino però io pensavo che magari lo dava sulla mappa era anche meglio adesso comunque ho notato che nella modalità creativa non ci sono insetti perché finora non li ho incontrati quindi non posso fare l'esperimento delle trappole l'andrò a costruire realmente però comunque adesso sto provando un attimo velocemente così almeno mi rendo conto anche cosa servono questi oggetti e se ne vale la pena costruirli perché visto che poi bisogna cercare parecchi materiali se poi magari mi rendo conto che non serve più di tanto e non ti resta a costruire adesso voglio andare in una parte più in là della mappa per vedere che cosa c'è allora qui ho trovato un'altra field station ma adesso andiamo più nella parte est della mappa vediamo ecco come potete vedere il segnalino sta a indicare appunto cioè praticamente si vede da lontano con quanto metri ci sono e poi il simbolo in che sono andata a scegliere quindi almeno se vogliamo cercare l'acqua sappiamo che è laggiù purtroppo non la fa vedere sulla mappa purtroppo quando giro poi faccio le riprese sempre notte comunque ho fatto la paletta, la pala perché voglio vedere cosa dà questo almeno adesso mi rendo conto se ma quanto ci si mette mi sembra che sia da... ah ok allora da queste clay che non so che cosa servono però ah sono praticamente i mattoni ecco cosa sono perché c'è anche la costruzione c'erano due tipi di costruzioni in mattoni allora qua intanto sono arrivata più o meno nella zona più di qua vediamo un po' voglio andare verso proprio lì dove ci sono quelle macchie per vedere cosa c'è ma infine se non ci sono animali non mi pare che ci sia nulla di nuovo qua in questa nuova zona aia quindi anche l'esplorazione non è tanto facile ci sono parecchi di questi mattoni diciamo da andare a raccogliere però... ah qua non c'è niente praticamente c'è un muro se l'avevo già visto purtroppo quando giro poi faccio le riprese sempre notte comunque ho fatto la paletta la pala perché voglio vedere cosa dà questo almeno adesso mi rendo conto se ma quanto ci si mette mi sembra che sia da... ah ok allora da queste clay che non so che cosa servono però ah sono praticamente i mattoni ecco cosa sono perché c'è anche la costruzione c'erano due tipi di costruzioni i mattoni allora qua intanto sono arrivata più o meno nella zona più di qua vediamo un po' voglio andare verso proprio lì dove ci sono quelle macchie per vedere cosa c'è ma infine se non ci sono animali non mi pare che ci sia nulla di nuovo qua in questa nuova zona aia quindi anche l'esplorazione non è tanto facile ci sono parecchi di questi mattoni diciamo da andare a raccogliere però ah qua non c'è niente praticamente c'è un muro se l'avevo già visto ragazzi io per oggi concludo qui questo episodio vi ringrazio come sempre di aver seguito e naturalmente vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se avete qualche domanda fatemela nei commenti ciao e alla prossima